Con le con le Anastasia Fa parte ovviamente del comitato Che ringraziamo E' tanto organizzatore perchè per noi Noi siamo qui L'offro direttore altissimo si chiama Gianni D'Aldria Che Pochi mesi fa Fuuta per scena Uno spettacolo scritto di pugno suo Da tipo Danzando e nel sogno E' piaciuto talmente tanto Perchè adesso bisogna introdurre a fare delle repiche Qui a Roma che speriamo Magari di approvare in tutta Italia E noi questa sera Questo pomeriggio vorremmo darvi Un piccolo pezzettino Di quello spettacolo Con un brano che portatelo Childhood Noi A noi problemi tecnici Ci fanno un baffo Vedo Sofia Caceli Grazie 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 Quando vedo e sento loro cantare Non mi importa di cantare Ma non lo faccio È la vostra economità Quando vedo ballare un uomo Vorrei ballare Ma non lo faccio rispetto alla vostra salute Perchè altrimenti Passerebbe il resto dell'anno Insomma Con qualche problema Perchè vi dico questo Perchè il personaggio che sta arrivando in questo momento Che è uno di quelli belli carichi Che vi dà una bella carica Che vuole farvi ballare Nonostante voi Siate tutti seduti E sto parlando Andiamo avanti Signore e signori Emiliano Emiliano Chiacchi Emiliano Chiacchi Emiliano Chiacchi E' un presidente che vi dà una presentazione qua Di tutti i suoi uomo che stanno appartendo A questa scoperta Mi devo volervere un passo In modo che tutti i dati faccio vedere come devi sbagliare Ci vediamo dopo Ciao, grazie Grazie, grazie 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 a tutti Grazie 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 Grazie